fratelli e sorelle oggi volevo parlarvi appunto di una dottrina molto importante forse è tra le più importanti che ci sono nelle sacre scritture questa dottrina viene chiamata con una parola viene chiamata trinità anche se la parola trinità non esiste nelle sacre scritture di questo noi ne siamo coscienti non è che non sappiamo che la parola trinità non esiste lo sappiamo nelle scritture nelle scritture non è scritta ma la parola trinità il concetto che esprime la trinità nella bibbia è ben presente oggi infatti volevo affrontare questo questa problematica cioè che il concetto la dottrina della trinità questa è ben spiegata nella scrittura cosa vuol dire la parola trinità la parola trinità viene da una parola latina trinitas che indica la riunione di tre cioè in uno stesso dio ci sono tre persone diverse tre persone diverse c'è proprio che hanno una esistenza diversa c'è separata l'una dall'altra sono tre persone distinte diverse che vivono separatamente nel senso che possono agire separatamente ma insieme queste tre formano un unico e solo vero dio quindi noi possiamo dire dicendo la verità possiamo dire che dio è uno e questo corrisponde perfettamente alla verità e così anche è scritto nella parola di dio è scritto che dio è uno però la parola sempre nella parola di dio è scritto anche che ci sono tre persone che operano in modo distinto l'uno dall'altro quindi quell'unico e vero dio è formato da tre persone che sono dio padre il figlio gesù cristo e lo spirito santo questi tre sono sempre esistiti attenzione essendo dio è sempre esistito il padre è sempre esistito gesù è sempre esistito lo spirito santo ad esempio prendiamo prendiamo parliamo di gesù se noi apriamo andiamo nelle sacre scritture e apriamo in genesi vediamo un passo io ne cito uno ma ce ne sono diversi un passo dove si dove si parla di gesù è chiaro che in quel passo non viene chiamato gesù però è chiaro che si sta parlando di dio si sta parlando di gesù perché perché il dio padre nessuno l'ha mai veduto il dio nessuno ha mai veduto il dio quindi quando dio si è diciamo si è mostrato agli uomini ha interagito con gli uomini senza nascondersi è chiaro che quello lì era gesù ad esempio quando l'eterno passeggiava nel giardino dell'eden quello lì era gesù perché adamo ed eva lo videro videro l'eterno quindi non era il padre ma era gesù io voglio citare un passo un passo di genesi dove dove giacobbe e giacobbe ad incontrare gesù e dobbiamo andare al capitolo 32 di genesi dal versetto 24 qui si parla si parla dell'incontro che c'è stato tra dio e giacobbe naturalmente questo dio non era il dio padre che ha lottato contro giacobbe ma bensì è gesù e questo è importante perché così si vede che gesù è sempre esistito gesù quindi si comprende che gesù ha rinunziato diciamo alla sua ricchezza ha rinunziato alla sua alla sua gloria che aveva per riacquistarla dopo naturalmente quando è stato glorificato è stato glorificato è stato asceso il cielo e glorificato il signore però quando è venuto sulla terra la parola è stata fatta carne quando gesù è venuto in carne ha dovuto apprendere su di sé in sé sia la natura umana che quella divina cioè in gesù abitavano contemporaneamente la sua natura umana e quella divina ora vediamo quello che dice di gesù che era preesistente io voglio citarvi questo passo per farvi capire che gesù che noi ce lo ricordiamo sempre come quel gesù che è vissuto è venuto in carne attraverso il ventre di maria e poi è nato è vissuto e poi è morto ed è risuscitato il terzo giorno essenzialmente noi ce lo ricordiamo in questa maniera ma nel vecchio testamento gesù era operante operava anche nel vecchio testamento infatti nel vecchio testamento lo viene chiamato viene indicato come l'angelo dell'eterno l'angelo dell'eterno viene indicato il nostro signore gesù lo spirito santo viene sempre chiamato spirito santo anche nel vecchio testamento nei profeti nella legge nei profeti ma per quanto riguarda gesù negli scritti chiamati denominati del vecchio testamento invece gesù viene chiamato o l'angelo l'angelo dell'eterno però era preesistente da sempre come dio padre e come lo spirito santo sono sempre esistiti non hanno avuto un principio e non hanno una fine ed è per questo che sia dio padre l'eterno l'idio onnipotente può dire che è l'alfa è l'omega il principio è la fine e così anche lo dice Gesù in apocalisse quando dice io sono l'alfa e l'omega perché non hanno avuto principio non sono stati creati Gesù non è stato creato come non è stato creato dio padre e come non è stato creato lo spirito santo perché insieme formano dio una creatura una una creatura non può far parte della divinità questo è un punto fondamentale gli esseri che sono stati creati non possono non possono non possono assolutamente far parte della divinità ecco perché noi diciamo che Gesù non è stato creato e in Genesi abbiamo detto al capitolo 32 facciamo citiamo un esempio che dimostra che il dio si è manifestato Gesù si è manifestato anche nel vecchio testamento cioè si è mostrato ha agito ha operato anche nel vecchio cioè era esistente e operante anche nel vecchio 32 24 di Genesi Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba lo scenario la situazione che riguardava Giacobbe era questa stava tornando dall'Abbano suo suocero con le sue due mogli e con tutti i suoi averi stava tornando nella terra dove da dove era scappato da Esau suo fratello e temeva che Esau lo diciamo avessi ancora rancore contro di lui e lo uccidesse in questo viaggio di ritorno comunque incontra l'angelo dell'Eterno incontra questo qui lo chiama un uomo quindi aveva forma di un uomo Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba e quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere gli toccò la commessura dell'anca e la commessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui e l'uomo disse lasciami andare che spunta l'alba e Giacobbe non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto e l'altro gli disse qual è il tuo nome ed egli rispose Giacobbe e quello disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini ed hai vinto e Giacobbe gli chiese De palesami il tuo nome e quello rispose perché mi chiedi il mio nome e lo benedisse Quivi e Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse ho veduto il Dio a faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata e fino a qui vedete si comprende da questi passaggi che Giacobbe nella località chiamata Peniel combatté contro un uomo che era l'Eterno ma non era Dio Padre ma bensì era Gesù cosa è successo qui? Gesù ha sempre operato ed è sempre esistito poi è venuto si è fatto carne è stata carne simile a quella di uomo per poter simpatizzare con noi per poter compiere quel sacrificio purificatorio dei nostri peccati perché essendo Dio il suo sacrificio poteva essere perfetto era perfetto appunto perché era Dio era senza peccato era senza alcun difetto era un agnello senza difetto ecco perché si è dovuto fare si è dovuto fare carne venire per essere sacrificato secondo la sua natura umana e dopo il terzo giorno è risuscitato ed è asceso al cielo questa è Gesù ma la scrittura la scrittura ci insegna ci insegna che sono tre e ora andiamo a vedere quei passaggi alcuni dei passaggi che ci dicono che la divinità è composta da tre persone tre persone che formano un unico e solo vero Dio quindi i tre sono uno questo io lo continuo a ribadire perché questa dottrina è fondamentale badate bene noi non possiamo avere comunione con chi non crede con chi non crede nella dottrina della trinità perché perché se crede che ce ne esista solo uno sta rifiutando e rigettando gli altri due noi crediamo che esista Dio Padre crediamo che esista Gesù Cristo il suo figliolo e crediamo che esista lo Spirito Santo e operano tutti e tre quindi se uno crede che esista solo Gesù Cristo sta rigettando lo Spirito Santo e sta rigettando il Padre capite quindi credere in questa dottrina è una cosa fondamentale noi non possiamo avere comunione comunione con con gli unitariani o antitrinitariani come li vogliamo chiamare o come li conosciamo noi dobbiamo credere a quello che dice la parola anche se ci dobbiamo credere anche se la nostra mente non riesce a capire pienamente come quelle tre persone siano esattamente esistenti in tre e siano contemporaneamente un Dio solo capite questa è la difficoltà dell'uomo questa è la nostra difficoltà capire come i tre possano essere uno perché matematicamente per noi diciamo è difficile da comprendere ma così viene presentato dalle scritture quindi anche se non c'è la parola Trinità scritta nella Bibbia viene presentato però il concetto come vedremo come vedremo diversi passi se c'è il concetto io anziché posso chiamare la Trinità posso chiamare la dottrina della Trinità la posso chiamare anche come i tre sono uno però devo utilizzare più parole con una parola sola invece per semplicità per titolo gli do il titolo alla dottrina e si chiama la chiamiamo la chiamiamo Trinità capite quindi a noi ci interessa il concetto la dottrina della Trinità non il fatto della parola in se stessa Trinità perché noi crediamo anche nell'immortalità dell'anima e lo possiamo dire come concetto perché è presente nelle sacre scritture l'anima non è non è non muore non muore non sparisce non scompare nel nulla il corpo muore ma l'anima no rimane vivente quindi ma noi crediamo quindi anche nella dottrina dell'immortalità dell'anima ma questa parola non c'è queste due parole non ci sono nelle sacre scritture non c'è scritto immortalità che l'anima è immortale o immortalità dell'anima ma ci serviamo delle parole nella nostra lingua per individuare una dottrina o un concetto quindi facciamo uso delle parole per spiegare per riferirci come riferimento ad una determinata dottrina quindi per semplicità si danno i titoli no? si danno i titoli alle dottrine si dà un titolo anche Gesù vi ricordate quando parlò di un certo fatto che accadde lo chiamò come disse nel passo del pruno vi ricordate questo passo lo disse Gesù quando si riferiva a Mosè quando il pruno ardeva e l'eterno si manifestò a lui lo chiamo il passo del pruno indicando appunto tutto quello che riguardava quella dottrina quel fatto storico che è accaduto quindi si possono usare dei titoli per indicare una dottrina e così facciamo noi utilizzando la parola trinità cioè se io anziché usare la parola trinità dico che i tre sono uno il concetto che è espresso nelle sacre scritture non cambia quindi la dottrina non è strettamente legata l'esistenza biblica della dottrina della trinità non è strettamente legata alla parola stessa trinità ma la parola trinità ci serve per indicare questa dottrina poi i nostri avversari su questa dottrina dicono che la parola trinità diciamo viene utilizzata dai cattolici ma possono usarla anche altre religioni cioè a noi se questa parola la usano altri non ci possiamo fare niente poi sbagliano gli antitrinitariani a dire che al concilio di Nicea del 325 dopo Cristo hanno inventato questa parola trinità perché in verità la parola trinità l'ha coniata tertulliano l'ha fatta nascere questa parola è nata con tertulliano quando cercava appunto di difendere la dottrina biblica contro gli unitariani che c'erano ai suoi tempi e questo è avvenuto intorno alla fine del secondo secolo alla fine del secondo secolo intorno all'anno 200 quindi la parola trinità non può essere strettamente legata a cattolicesi quindi vogliono i nostri avversari vogliono rendere la parola e la dottrina odiosa agli occhi della gente collegandola al cattolicesimo capite fanno questo sforzo questo sforzo che è diabolico perché vogliono con le associazioni rendere questa dottrina odiosa agli occhi dei più vi faccio notare anche che la massoneria che è una una religione del diavolo la massoneria non credono nella dottrina della trinità i massoni nella massoneria ci sono tra i loro principi appunto quello di credere in un dio che noi sappiamo essere il grande architetto come lo chiamano loro ma noi sappiamo che è il diavolo in verità che loro adorano il diavolo e credono in un solo dio dicono loro che non esiste nessuna trinità quindi vedete anche loro gli unitariani non fanno non fanno altro che seguire un principio massonico degli adoratori di satana del diavolo quindi se vogliono fare delle associazioni negative anche noi le possiamo fare se loro vogliono renderci odiosi a noi che crediamo nella dottrina della trinità usando la parola trinità associandoci al cattolicesimo anche noi possiamo fare delle associazioni con loro li associamo ai massoni che anche i massoni credono in un solo dio dicono almeno solo che loro dio non è naturalmente l'idio della bibbia ma è Baphomet è Satana ora passiamo a citare il primo uno dei primi primi passi di cui si evince la dottrina della trinità e la incontriamo appunto con la formula battesimale per chi ancora non è battezzato in acqua quindi deve sapere queste cose cioè che quando verrà battezzato chiunque lo battezzerà bisogna che sia battezzato nel nome del padre del figlio e dello spirito sano come sta scritto al capitolo 28 di Matteo dal versetto 18 e Gesù accostatosi parlò loro dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate dunque ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre del figlio del figliolo e dello spirito santo insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate Gesù ha dato il comando di ammaestrare e di battezzare nel nome del padre nell'autorità del padre per l'opera che ha fatto il padre infatti noi sappiamo che è il padre che ci ha attirati a Cristo capite è il padre che ha compiuto il primo passo e ci ha attirati a Cristo Cristo è colui che è morto sulla croce è il sangue che lui ha versato è quel sangue che ci ha purificati da ogni peccato a noi naturalmente che siamo stati rigenerati spiritualmente che siamo nati di nuovo e lo spirito santo è proprio lo spirito santo è colui che ci ha rigenerati spiritualmente lo spirito santo ci ha convinto di peccato ci ha convinto quanto al sacrificio che Cristo ha compiuto è lui che ha operato in noi quindi si è stati battezzati chi è stato battezzato nella formula dei tre nel nome del padre del figlio e dello spirito santo perché appunto ha creduto in queste opere ha creduto che Dio ha operato ha creduto che Gesù ha operato ed è morto per i nostri peccati e ha creduto anche che un'opera l'ha compiuta anche lo spirito santo quindi la formula trinitariana questa formula battesimale è completa nel battezzare nel solo nome di Gesù non è completa perché non si crede in tutte le cose in tutte le persone che hanno operato per la nostra salvezza perché per la nostra salvezza hanno operato sia il padre che il figliolo ma anche lo spirito santo la formula la formula esatta la formula giusta da utilizzare nel battezzare in acqua è quella nel nome del padre del figlio e dello spirito santo quindi chi si fosse fatto chi si è fatto battezzare nel solo nome di Gesù praticamente ha rigettato le altre due persone non riconosce quindi non riconosce l'opera che hanno compiuto il padre e lo spirito santo di conseguenza noi non lo riteniamo valido un battesimo fatto nel solo nome di Gesù noi non lo riteniamo valido attenzione non è che non è salvata la persona che non è battezzata perché il battesimo in acqua non salva il battesimo in acqua non purifica da nessun peccato ma il battesimo in acqua è una testimonianza della nuova nascita che si è ricevuta però questa testimonianza deve essere una testimonianza verace una testimonianza vera non una testimonianza mendace quindi sia chi battezza che chi viene battezzato devono battezzare nel nome del padre del figlio dello spirito santo e chi viene battezzato deve richiedere di essere battezzato nel nome del padre del figlio e dello spirito santo affinché non renda una testimonianza che sia mendace non verace insomma è importantissimo quindi la formula battesimale è importante sulla formula battesimale si possono fare altre argomentazioni c'è scritto in atti degli apostoli che gli apostoli battezzavano nel nome di Gesù intendendo nell'autorità di Gesù secondo quanto ha comandato Gesù questo è il senso perché in atti degli apostoli c'è anche scritto in alcuni punti che taluni sono stati battezzati e non c'è scritta la formula sempre in atti degli apostoli c'è scritto che alcuni credettero ma non c'è scritto che furono battezzati in acqua ora se noi prendiamo dagli atti degli apostoli che gli apostoli battezzarono nel nome di Gesù se possiamo prendere quei passi potrebbe venire qualcuno e dire no ma io utilizzo quest'altro passo questi altri passi perché provengono sempre da atti degli apostoli dove c'è il battesimo in acqua c'è è indicato ma non c'è nessuna formula quindi anche nessuna formula è una cosa una questione biblica è biblico ma le cose non stanno così vedete quindi esaminando esaminando sempre la somma della parola è sempre nella somma della parola che sta la verità fratelli ricordatevelo sempre questo quindi esaminando le sacre scritture nella loro totalità nella somma della parola troviamo la verità e troviamo che Gesù ha mandato a battezzare i suoi apostoli e gli ha dato un ordine ben preciso quello di battezzare nel nome del padre del figlio e dello spirito santo nel riconoscere queste tre persone fondamentale essendo una cosa fondamentale gli apostoli hanno sicuramente obbedito al comandamento di Gesù e hanno battezzato con questa formula che poi è trascritto solo brevemente nel nome di Gesù come dire nell'autorità che Gesù secondo il comandamento che ci ha dato Gesù questo è il senso che bisogna dare a quelle parole e non che sono stati battezzati nel nome di Gesù altrimenti Gesù non avrebbe dato il comando di dire cioè Gesù ha ordinato di andare a battezzare nel nome del padre del figliolo e dello spirito santo e gli apostoli per tutta risposta al comandamento di Gesù hanno battezzato nel solo nome di Gesù capite vi ricordate abbiamo parlato di Mosè che parlò sconsigliatamente e fu punito da Dio non parlò non disse non disse determinate parole come gliele aveva riferite il Dio e fu punito e così gli apostoli cioè se non avessero fatto esattamente quello che Gesù ha comandato quello che Dio gli ha comandato perché Gesù è Dio lo è sempre stato e quindi ha dato quel comando quindi Dio ha comandato e gli apostoli hanno sicuramente capito quello che Gesù gli ha comandato e hanno obbedito obbedito a quel comando non li hanno certamente disubbedito in una cosa così importante quindi fratelli è importante la formula se voi conoscete fratelli e sorelle che sono state battezzate nel solo nome di Gesù potete dirgli tranquillamente che si devono far ribattezzare perché non è valido il battesimo non è valido se viene fatto nel nome di Gesù soltanto perché così ha rigettato le due persone e non è valido quando non si è nati di nuovo se uno si fa battezzare che ancora non è nato di nuovo non è valido perché è una testimonianza di quello che è accaduto di quello che è avvenuto dentro di loro quindi se non è avvenuto niente che testimonianza è e se il padre e il figliolo e lo spirito santo hanno partecipato alla salvezza di ognuno di noi per quale motivo noi non dobbiamo testimoniarlo credere e testimoniare che ciò è avvenuto al bando le dottrine unitariane che vedono solo in uno solo vedono solo una persona che prende forme diverse però se fosse così se ci fosse solo una persona allora io vi potrei dire che le sacre scritture soprattutto il nuovo testamento sarebbe un libro teatrale perché dovremmo badare tutte le volte quando Gesù ha pregato il padre allora era una scenetta era una scenetta teatrale era un falso perché perché Gesù pregava il padre capite quindi se Gesù pregava il padre o pregava se stesso e non ha senso perché se lassù non c'era nessuno se non c'era nessuno che lo ascoltava perché lui era lì c'è solo lui se c'è solo lui secondo gli unitariani eh badate bene sarebbe stata una grande finzione sarebbe stata tutta una grande finzione ma noi sappiamo che la parola di Dio è verace e che gli uomini sono bugiardi quindi gli unitariani sono bugiardi noi crediamo che Gesù ha pregato il padre che era nel cielo e adesso andremo appunto a vedere questo abbiamo visto in Matteo sempre in Matteo andiamo a vedere il momento in cui Gesù è stato battezzato in acqua da Giovanni Battista andiamo al capitolo 3 capitolo 3 di Matteo capitolo 3 dal versetto 13 allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato ma questi vi si opponeva dicendo sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me ma Gesù gli rispose lascia fare per ora poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si apersero ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui ed ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto vedete qui Gesù si è fatto battezzare in acqua da Giovanni Battista volevo che voi puntaste la vostra attenzione sugli ultimi versetti 16 e 17 dove dove dice che Gesù c'era Gesù quindi qui che saliva fuori dall'acqua vedete Gesù c'era lo spirito santo aveva preso una forma di colomba e scese su Gesù e poi dai cieli dai cieli si fece una voce dall'alto che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ma quale scenetta sarebbe stata questa se c'era uno solo ma questa sarebbe stata un grande scenetta teatrale cioè inutile fuorviante deviante dalla verità perché qui vediamo che questo passo ci dice che contemporaneamente attenzione a questa parola contemporaneamente abbiamo visto che c'era Gesù che saliva fuori dall'acqua lo spirito santo che prese la forma di colomba e scese su di lui è una voce che si fece dai cieli il dio padre parlò dai cieli e dice questo è il mio diletto figliolo ma tutto ciò avvenne contemporaneamente e questo ci fa capire che le persone divine sono tre lo spirito santo Gesù che aveva in sé sia la natura divina che la natura umana in quel momento e dio padre che parlò dal cielo quindi sono tre persone contemporaneamente perché se fosse stata una persona sola per non esserci una scenetta inutile vana teatrale per non esserci nessuna finzione si sarebbe dovuto manifestare da solo o l'uno o l'altro prendere diciamo le vesti di uno o dell'altro in base all'occorrenza ma non si sarebbero mai potuti avere tutti e tre contemporaneamente se ce ne fosse stato uno solo altrimenti sarebbe stato ingannevole la cosa se ce n'è solo uno questi passi ci ingannano ci fanno credere che sono tre e ciò non è possibile noi non crediamo che la parola di dio ci abbia ingannato noi crediamo che siano tre ma perché i passi sono innumerevoli fratelli sono tanti io ne citerò solo solo un certo numero a citarli tutti diciamo mattina capito poi a spiegarli a commentarli e poi si fa veramente arriva il giorno di domani e quindi qui abbiamo visto che contemporaneamente infatti mi limiterò a citarvi i passi per farvi capire la Trinità vi citerò quelli dove si parla di tutti e tre contemporaneamente dove si citano i tre contemporaneamente quindi qui questo passo ci fa capire chiaramente che operavano contemporaneamente tutti e tre quindi erano esistenti separati diciamo l'uno dall'altro perché sono persone diverse separate ma nello stesso tempo unite che formano un unico e vero Dio capite questo la somma della parola ci comunica e così noi crediamo un altro passo un altro passo che ci fa capire che sono tre lo andiamo a prendere da Giovanni quindi nel Vangelo di Giovanni quando Gesù promette di mandare lo Spirito Santo sulla terra dice queste parole qui dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni dal versetto 15 se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo Spirito della Verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce vedete anche qua chi abbiamo quali sono le persone le persone io dico la parola persone ma per individuare cioè per spiegarvi che ci riferiamo a a a Dio a Dio Padre a Dio Figlio a Dio Spirito Santo ci vorrebbe una parola che diciamo speciale che individuasse le tre persone io mi limito a dirvi queste tre persone per fare la distinzione però è chiaro che non sono persone come lo siamo noi si indica questa parola per povertà di parole perché ci vorrebbe veramente una parola speciale per indicare che sono tre persone che sono tre persone che non sono però come lo siamo noi quindi quando io chiamo Gesù una persona lo Spirito Santo una persona non è che sto dicendo che sono come noi sto dicendo che hanno una loro personalità una proprio loro volontà una proprio loro una loro propria esistenza separata l'una dall'altra ma che insieme formano un unico e solo vero Dio e qui abbiamo visto che Gesù parlando dice dice pregherò il Padre quindi Gesù prega il Padre che sta nei cieli che stava nei cieli e che il Padre avrebbe mandato un altro consolatore perché quando era sulla terra Gesù era il nostro consolatore era il consolatore ma Gesù poi sarebbe salito asceso al Padre e sarebbe sceso sarebbe stato dato un altro consolatore che è lo Spirito Santo quindi se è un altro vuol dire che io non sono la stessa persona se io dico questo è un altro non vuol dire che è uguale a quell'altro ma sono diversi quindi Gesù prega il Padre e il Padre manda un altro consolatore che è diverso da Gesù se il Padre lo manda non è lui perché se lo manda non è se stesso se Gesù prega il Padre per mandare un altro consolatore vedete sono tutte tutte parole che indicano una separazione l'una dall'altra in questo caso sono tutti separati l'una dall'altra Gesù prega il Padre e il Padre manda lo Spirito Santo vedete quindi sono tre figure tre vesti tre persone chiamiamole individuiamole come vogliamo ma sono tre tre distinte l'una dall'altra ma non c'è solo questo passo vi ho citato questo sempre sto scegliendo quei passi ho scelto quei passi di parlarvi di quei passi dove ci sono tutti e tre contemporaneamente capite dove sono indicati tutti e tre contemporaneamente un altro passo che possiamo esaminare e lo troviamo in Romani dove si parla di Dio che ha risuscitato Gesù per la potenza dello Spirito Santo quindi Romani 8 al versetto 11 leggiamo queste parole e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi anche qui vedete sono operanti tre persone diverse che fanno parte della divinità e guardate bene cosa dice dice se lo Spirito di chi lo Spirito di colui che ha quindi c'è un colui che è riferito a Dio Padre che ha risuscitato Gesù che non è quindi colui che l'ha risuscitato ma è stato Gesù è stato risuscitato quindi c'era lo Spirito Santo c'era colui che ha risuscitato Gesù e c'è Gesù in questo passaggio e li indica tutti e tre separatamente vedete se ce ne fosse stato uno solo questi passaggi o non esisterebbero o sarebbero stati scritti in un'altra maniera ma tutti questi passaggi sono scritti appunto per distinguere l'uno dall'altro si vengono distinti l'uno dall'altro quelli che formano i tre che formano la divinità e io insisto a dirvelo perché questa dottrina è fondamentale questa qui la dovete imparare bene questa dottrina dovete averla almeno alcuni passi importanti principali ve li dovete segnare ve li dovete ricordare a memoria e dovete turare la bocca ai cianciatori che parlano contro questa dottrina importante dovete essere in grado tutti quanti di rispondere a a coloro che si oppongono alla sana dottrina e con ragionamenti spirituali e i passi biblici che questi e altri che studierete che troverete che anche meditando da soli sarete in grado di rispondere a questi cianciatori bugiardi quindi abbiamo visto anche da qui che sono i tre sono suddivisi in tre qui è Paolo che ha parlato quindi Paolo credeva che fossero in tre credeva nello spirito santo che operava che operava e che c'era colui che aveva risuscitato Gesù e quindi che c'era Gesù Paolo credeva in queste tre persone e così e così se ci credeva Paolo possiamo crederci dobbiamo crederci anche noi perché era parola ispirata da Dio sempre l'Apostolo Paolo adesso andiamo in seconda Corinzi andiamo in seconda Corinzi a conclusione della sua seconda epistola ai santi di Corinto dice queste parole per chiudere la lettera come desiderio verso quei fratelli Paolo scrive queste parole la grazia del Signor Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi vedete cioè Paolo ha scritto queste parole questo desiderio Paolo desiderava che la grazia la misericordia di Gesù Cristo che l'amore di Dio perché Dio è amore è scritto anche questo che l'amore di Dio intendendo proprio quello di Dio Padre è che la comunione dello Spirito Santo perché noi dobbiamo stare in comunione oltre che gli uni con gli altri sempre per mezzo dello Spirito Santo anche comunione con Dio sempre per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi quindi il desiderio di Paolo era proprio questo che abbondasse la grazia del Signore Gesù Cristo sui santi di Corinto che l'amore di Dio che fosse con loro e anche anche la comunione dello Spirito ora se ce n'è solo uno bastava che dicesse che la grazia la grazia l'amore e la comunione di Gesù Cristo siano con tutti voi capite? così doveva scrivere l'Apostolo Paolo se voleva indicare che esisteva solo Gesù Cristo come dicono taluni doveva dire la grazia l'amore e la comunione di Gesù Cristo siano con tutti voi ma non ha scritto così perché Paolo appunto voleva indicare ricordare anche in questo desiderio in questo saluto finale ai fratelli in questa benedizione chiamiamola così che mandava che richiedeva a Dio che scendesse sui santi di Corinto scrive in questa maniera la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio l'amore di Dio la comunione dello Spirito Santo li distingue fratelli sono tre non è uno soltanto ma sono tre e questi tre formano un solo vero Dio attenzione noi crediamo che c'è un Dio solo non è che diciamo che ci sono tre Dei però questo unico Dio è formato da tre persone e così è scritto così leggiamo e così siamo tenuti a parlare e a dire e a credere così è e così noi dobbiamo dobbiamo credere quindi sono tre sono tre è inutile che vadano in giro a dire che è uno solo perché perché non riescono a fare il conteggio matematico che i tre sono uno neanche noi riusciamo a farlo ma noi sappiamo che la gloria del Dio vivente il nostro Dio non è non si può rinchiudere il concetto del Dio vivente nella nostra piccola mente capite non comprendiamo tutto di Dio non lo comprendiamo un giorno forse comprenderemo quando saremo in gloria egli ci farà capire tante cose che qui ancora magari non abbiamo compreso però adesso le scritture ci fanno capire questo quello che si comprende noi lo dobbiamo prendere così com'è e lo dobbiamo dobbiamo annunziarlo dobbiamo crederlo dobbiamo dirlo trasmetterlo agli altri come scritto quindi anche se non lo capisco come i tre possano essere uno solo ma io fratelli non riesco neanche a capire voglio confessarvi questo la scrittura dice anche che l'uomo lascerà suo padre sua madre e si unirà sua moglie e i due saranno una stessa carne saranno una stessa carne eppure crediamo che sia parola di Dio è parola ispirata da Dio ma crediamo anche che il marito e moglie hanno due corpi diversi capite hanno due corpi diversi anche dopo che si sono sposati e congiunti carnalmente però il Signore dice che sono una stessa carne una sola carne capite quindi quindi ci sono delle cose che sono scritte in una certa maniera e io parlo di me personalmente anche se non le comprendo fino in fondo in ogni minimo dettaglio io sono tenuto a dirle così come sono scritte non mi voglio inventare nulla non voglio inventarmi nulla non voglio aggiungere né togliere nulla così è scritto e così io credo e un giorno crederò ancora meglio un giorno vedrò le cose come staranno realmente Dio mi farà comprendere esattamente nei minimi dettagli ogni cosa quando saremo nell'eternità ne avremo momenti e tempi di capire ogni cosa però fino a che siamo qui quello che riusciamo a comprendere fino in fondo già da adesso gloria a Dio quello che non comprendiamo fino in fondo ce lo segniamo quando verrà il momento comprenderemo comprenderemo anche queste cose ma per ora per ora le cose stanno così e noi le insegniamo e le crediamo così come sono scritte adesso andiamo ancora sempre l'Apostolo Paolo conferma sempre che lui credeva che fossero tre andiamo a leggere adesso nell'Epistola agli Efesini al capitolo 4 l'Apostolo Paolo dice scrive queste parole ai Santi di Efeso capitolo 4 dal versetto 4 v'è un corpo unico ed un unico spirito come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza quella della vostra vocazione v'è un solo Signore una sola fede un solo battesimo un Dio unico e padre di tutti che è sopra tutti fra tutti ed in tutti vedete qui Paolo scrive agli Efesini che c'è un unico spirito santo e va bene ma dice anche che c'è un solo Signore e anche questo è corretto è un solo Signore una sola fede ma c'è anche un Dio unico e padre di tutti quindi Paolo scrive agli Efesini che c'è sia Gesù Cristo sia il Padre sia lo Spirito Santo non sono né titoli né niente sono tre persone operanti capite esistenti e operanti e l'Apostolo Paolo se no avrebbe dovuto scrivere diversamente sarebbe stato più chiaro perché altrimenti così avrebbe ingannato molte persone invece vuole dire proprio quello che è scritto l'Apostolo Paolo ci voleva comunicare proprio la dottrina della Trinità ci voleva comunicare che i tre sono uno e ce l'ha comunicato in questa maniera in diverse sue epistole anche una cosa simile la vediamo anche Paolo la scrive anche ai Corinzi nella prima epistola ai Corinzi al capitolo lo vediamo al capitolo 12 dal versetto 4 dice or vi è diversità di doni ma vi è un medesimo spirito perché qui sta parlando dei doni spirituali i doni che sono una manifestazione potente dello Spirito Santo e che vengono distribuiti dallo Spirito Santo quindi diversità di doni sta parlando dei doni spirituali che li elenca dopo però sta parlando dei doni spirituali poi dopo dice vi è diversità di ministeri i ministeri sono quelli che troviamo scritti in Efesini nell'epistola di Paolo agli Efesini che sono cinque i ministeri solo cinque e non sono tutti uguali e non sono tutti dentro la stessa non vengono dati tutti al pastore attenzione sono ministeri sono incarichi mandati diversi l'uno dall'altro qualcuno ad esempio l'Apostolo l'Apostolo Paolo era sia dottore che Apostolo quindi alcuni ministeri possono anche essere compresi due ministeri insieme però può esserci faccio un esempio il profeta è anche il pastore ci può essere anche il profeta e il dottore non si contrastano assieme certi ministeri ma è chiaro che questi ministeri nascono nascono per essere diciamo anche un controllo l'uno dell'altro all'interno della chiesa quindi non possono essere tutti i ministeri su una stessa persona i profeti cosa fanno vegliano sul popolo vegliano che le cose stiano così e trasmettono al popolo le visioni e sogni le rivelazioni che Dio dà loro ai profeti e i profeti lo passano al popolo quindi devono bisogna che bisogna che nella chiesa ci siano oltre che siano distribuiti i doni spirituali di cui tutta la chiesa ne ha bisogno ma anche i ministeri la chiesa ha bisogno anche dei ministeri e non saranno tutti su uno solo quindi fratelli e sorelle dovete desiderare di ricevere i doni spirituali e anche i doni di ministerio perché ad esempio anche le donne possono ricevere il dono di ministerio del profeta della profetessa cioè le donne possono ricevere il ministerio l'incarico il mandato particolare che viene naturalmente questi ministeri vengono dati da Gesù Cristo quindi abbiamo visto per ritornare al passo perché è questo che sta dicendo l'Apostolo Paolo Paolo ha detto che i doni spirituali sono vi è un medesimo spirito perché perché i doni spirituali sono diversi ma un solo spirito perché i doni spirituali sono distribuiti dallo Spirito Santo come egli vuole i doni di ministerio invece sono distribuiti da Gesù Cristo e il dono ad esempio di ministerio che riguarda il profeta può essere dato anche alle donne quindi le donne non è che non possono le sorelle non è che non hanno niente da fare o non possono servire la Chiesa ci mancherebbe il loro servizio se non ci fossero si noterebbe subito c'è bisogno anche degli aiuti non c'è bisogno solo di chi predica fratelli c'è bisogno di tutti i membri del corpo tutti tutti devono muoversi in comunione con Dio per fare l'opera che Dio ci ha dato a ciascuno di fare e tra cui tra i doni ci sono anche la donna può fare il diacono può assumere l'incarico che non è un ministerio il diacono così come non è un ministerio l'anzianato l'anziano il vescovo non è un ministerio il dono è sempre costituito dallo Spirito Santo è sempre un incarico che Dio dà ma non è un ministerio l'anziano e anche il diacono può essere scelto anche dalla Chiesa no? mentre il ministerio la Chiesa non lo può scegliere il pastore non è la Chiesa che se lo sceglie il pastore lo sceglie il Signore e lo manda lì poi lo conferma lo conferma come Dio quando mandò Mosè a liberare il suo popolo di Israele lo confermò con grandi segni e prodigi e miracoli ora quando Dio costituisce quando Gesù costituisce i suoi ministri distribuisce doni di ministerio ai suoi servitori egli poi lo confermerà non lo manda da solo il suo ministro lo confermerà davanti al suo popolo quindi e questo è importante perché non è che si fa un pastore non è che deve uscire fuori dalle scuole bibliche un pastore deve uscire fuori dalla scuola del Signore dalle scuole delle ginocchia faccia a terra e studiare le scritture allora quell'uomo che Dio vorrà incaricare di assumere un ministerio lo incaricherà ma senza titoli umani non è che vengono stabiliti dagli uomini i ministeri vengono stabiliti dal Signore Gesù Cristo vengono distribuiti dal Signore Gesù quindi abbiamo visto che i doni spirituali li distribuisce lo Spirito Santo i doni di ministerio li distribuisce Gesù e poi al versetto 6 dice di prima Corinzi 12 6 dice e vi è varietà di operazioni ma non v'è che un medesimo è Dio quindi per tornare al nostro argomento principale che è la Trinità infatti vediamo che qui c'è scritto che è Dio colui che compie tutte le cose lo Spirito Santo distribuisce donne spirituali Gesù distribuisce donne di ministerio ma è Dio alla fine che compie tutto in tutti il Dio Padre comunque governa al di sopra di tutti quindi sono tutti e tre operanti vedete quindi se siamo stati battezzati o sarete battezzati nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e perché si riconosce che sono operanti tutti e tre non è che ne esiste uno solo quindi è importante è importantissimo anche questo ora volevo volevo citarvi come ultimi passi per farvi capire che c'è differenza differenza e voglio usare appunto il peccato un peccato che non può essere perdonato cioè la bestemmia contro lo Spirito Santo allora la scrittura dice che bestemmiare contro Dio bene contro l'Eterno contro Dio Padre è peccato poi ci dice anche che è peccato ogni bestemmia quindi anche contro il figliolo è peccato però la scrittura sempre la scrittura ci dice questo lo leggiamo poi nei Vangeli ci dice dopo andiamo a leggerlo nel Vangelo di Marco ci dice che comunque la bestemmia contro il Dio Padre può essere perdonata la bestemmia contro il figliolo può essere perdonata ma la bestemmia contro lo Spirito Santo no non può essere perdonata vedete e quindi c'è differenza o no se fosse uno solo non avrebbe senso questo tipo di peccato non avrebbe senso che a due sarebbe perdonato al Padre la bestemmia contro il Padre la bestemmia contro il Figlio sono perdonati mentre la bestemmia contro lo Spirito Santo no ha senso tutto questo ha un senso solamente se solamente se i tre sono diversi l'uno dall'altro capite se fossero una persona sola non avrebbe senso neanche questo tipo di peccato imperdonabile perché la bestemmia con lo Spirito Santo è uno dei due peccati imperdonabili questi poi li approfondiremo maggiormente in un'altra un'altra volta ad esempio noi leggiamo nel nel libro di Esodo dell'Esodo leggiamo questo comandamento Esodo 22 versetto 28 dice così non bestemmierai contro Dio e questo è un peccato non bisogna bestemmiare contro il Padre non bisogna bestemmiare contro Dio perché questo è peccato perché il peccato è la trasgressione della legge guardate bene la legge di Mosè non è stata abolita voglio ricordarlo questo la legge di Mosè non è stata cancellata né abolita semmai è stata compiuta portata a compimento ci sono delle cose che sono passate ma non tutto perché la legge di Mosè ci fa conoscere quello che è peccato e qui ci fa conoscere che bestemmiare il Dio è peccato poi se noi andiamo a leggere l'Evangelo di Marco dove si parla appunto della bestemmia contro lo Spirito Santo ecco quindi Marco 3 dal versetto 20 dice così poi entrò in una casa e la moltitudine si adunò di nuovo tal che egli ed i suoi non potevano neppur prender cibo or i suoi parenti udito ciò vennero per impadronirsi di lui perché dicevano è fuori di sé e gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano egli a Belzebù ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia ma egli chiamatoli a sé diceva loro in parabole come può Satana cacciare Satana e se un regno è diviso in parti contrarie quel regno non può durare e se una casa è divisa in parti contrarie quella casa non potrà reggere e se Satana insorge contro se stesso ed è diviso non può reggere ma deve finire ed anzi niente e non può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte allora soltanto gli prederà la casa in verità io vi dico ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno ma è reo di un peccato eterno or egli parlava così perché dicevano ha uno Spirito immondo Gesù cacciava i demoni e li cacciava per l'aiuto dello Spirito Santo così come lo fanno l'hanno fatto gli apostoli e così come avviene oggi se oggi dei demoni vengono cacciati possono essere cacciati solamente ed esclusivamente per la potenza dello Spirito Santo per l'opera dello Spirito Santo non è che vengono cacciati perché l'uomo è più forte degli Spiriti ma perché con la fede in Dio con la preghiera e talvolta anche con il digiuno per alcuni Spiriti non escono se non con la preghiera e il digiuno ecco che questi Spiriti vanno via ma è lo Spirito Santo che li caccia via i demoni è lo Spirito Santo ora ci sono purtroppo quelli come anche fecero con Gesù che addebitarono addebitarono a Gesù di cacciare i demoni per l'aiuto dei demoni e infatti Gesù glielo spiega guardate che Satana non caccia Satana non può essere ora se voi riconoscete che Satana è uscito da quelle persone sappiate che non è Satana che l'ha cacciato ma è lo Spirito Santo quindi insultando Gesù dicendo che insultando lo Spirito Santo praticamente bestemmiando parlando contro perché bestemmiare vuol dire parlare contro parlarono contro lo Spirito Santo che cacciò quegli spiriti bestemmiarono contro lo Spirito Santo questi farisei questi scribi questi scribi che diciamo parlavano contro Gesù questi che peccato hanno commesso hanno commesso un peccato che non può essere perdonato cioè la bestemmia contro lo Spirito Santo a questo tipo di bestemmia non c'è remissione in eterno guardate bene Gesù dice ogni peccato può essere perdonato ma la bestemmia contro ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno quindi quindi poteva essere potevano bestemmiare il figlio potevano bestemmiare il padre perché era peccato sia bestemmiare il figlio che il padre però questi hanno remissione possono essere rimessi mentre chi bestemmia contro lo Spirito Santo chiunque bestemmia contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno il peccato della bestemmia contro lo Spirito Santo può essere commesso sia dai credenti che dai non credenti lo possono commettere i credenti e i non credenti a differenza dell'altro peccato imperdonabile che è rinnegare Cristo l'apostasia rinnegare Cristo il commettere il peccato che mena morte rinnegare Cristo lo possono fare solo quelli che l'hanno prima conosciuto cioè disconoscere quindi rinnegare di aver conosciuto Cristo lo possono fare solo quelli che realmente l'hanno conosciuto vi faccio un esempio il Papa non può rinnegare Cristo non l'ha mai conosciuto capite Cristo lo possono rinnegare coloro che sono nati di nuovo e l'hanno conosciuto personalmente che hanno fatto esperienza con lui hanno avuto comunione con lui hanno gustato la potenza di Dio e altre cose potenti e gloriose lo rinnegano e è un peccato anche quello che non può essere perdonato perché rinnegandolo lo disconoscono e cancellano il sacrificio per loro che è stato compiuto che diciamo è stato reso vano quindi per essere perdonati quel sacrificio essendo stato disconosciuto non può più non può più perdonarli e lavarli e lavarli dai loro peccati quindi è vano è diventato inutile quel sacrificio per loro che ha già funzionato una volta sono già stati purificati dai loro peccati ma l'hanno rinnegato con forza e con violenza con determinazione l'hanno rinnegato non l'hanno riconosciuto più quindi l'hanno rinnegato e anche questo è un peccato che non può essere perdonato però qui in questo caso il peccato che mena morte lo possono commettere solamente coloro che hanno creduto in Gesù Cristo mentre nel versetto 29 di Marco noterete la parola chiunque cioè quando parleremo poi in un altro momento parleremo di questi due peccati più dettagliatamente ma quando si parla del peccato che mena morte si indica viene indicata la parola indicano determinate condizioni che deve avere la persona che commette quel peccato e quelle condizioni sono legate ad un credente ad essere credenti qui invece dice per quanto riguarda la bestemmia contro lo Spirito Santo dice chiunque avrà bestemmiato questo chiunque vuol dire qualunque persona quindi c'è la possibilità di qualsiasi persona nessuno escluso credente o non credente capite quindi qui potenzialità ecco non è chiunque vuol dire tutti non è come in Giovanni 316 chiunque crede il Dio tanto amato il mondo che chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna chiunque crede in lui come qui non vuol dire che tutti crederanno in lui come qui non vuol dire che tutti avranno compiranno il peccato che la bestemmia contro lo Spirito Santo capite ma fa una da una possibilità questo chiunque vuol dire che qualunque persona di qualsiasi categoria di qualsiasi popolo di qualsiasi nazione tribù e lingua può commettere questo peccato così come chiunque qualsiasi persona di qualsiasi nazione come dice in Giovanni 316 può essere salvato può credere però in quel caso noi sappiamo che crederanno solo quelli che sono stati predestinati da Dio che sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo qui è proprio una questione di leggere nella lingua italiana il significato di queste parole cioè non è che c'è una rivelazione speciale o particolare qui non ci sono rivelazioni c'è solo una lettura del linguaggio delle parole nella lingua italiana e la spiegazione del significato di questo quindi non c'è nessuna rivelazione potente gloriosa e nascosta ma qui si è parlato di parole in lingua italiana e sono state spiegate quindi e con questo volevo concludere dicendovi che è vero che i tre sono uno è vero che sia Dio padre che Dio figlio che lo spirito santo sono Dio è chiaro però badate bene c'è anche una distinzione tra di loro questo è importante ricordarlo perché la scrittura ci dice che che lo spirito santo glorifica lo spirito santo abita dentro di noi abitano anche il padre e il figliolo ma in particolare lo spirito santo noi facciamo sempre riferimento allo spirito santo che abita dentro di noi perché chi non ha lo spirito di Cristo egli non è di lui quindi tutti i credenti deve per forza di cose abitare lo spirito santo altrimenti non è un cristiano non è un figliolo di Dio se non è nato di nuovo e lo spirito santo non abita in lui quindi lo spirito santo abita nei credenti lo spirito santo insieme allo spirito dell'uomo prega chi? prega il Dio padre come Gesù ha insegnato di pregare no? vi ricordate la preghia del padre nostro che dice padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome quindi la preghiera nostra deve essere indirizzata dal nostro spirito insieme allo spirito santo deve essere indirizzata al padre nel nome di Gesù vedete anche nella singola preghiera c'è la partecipazione nella nostra preghiera c'è la partecipazione di tutti e tre questo lo dico dovete considerarlo considerarlo attentamente perché quando pregate vi dovete ricordare di queste cose voi noi tutti noi dobbiamo pregare il padre nel nome di Gesù Cristo e lo stiamo pregando per lo spirito santo lo spirito santo in noi ci sospinge a pregare ci guida nella preghiera noi preghiamo e glorifichiamo il padre nel nome di Gesù ora non è che non possiamo invocare Gesù Gesù lo possiamo invocare il padre lo dobbiamo pregare e invocare dobbiamo dare gloria al padre e anche gloria a Gesù perché questo ce lo dice la scrittura si può fare si deve fare ma vi sto dicendo questo per farvi capire che nella scrittura non c'è da nessuna parte una preghiera diretta allo spirito santo perché sarebbe come se lo spirito santo pregasse se stesso capite lo spirito santo Gesù non ha pregato se stesso ha pregato il padre e lo spirito santo se noi preghiamo lo spirito santo e lo spirito santo dentro di noi è come se pregasse se stesso e non ha senso così quindi è vero che i tre sono tutti Dio e formano un solo e vero Dio però attenzione nella loro distinzione dobbiamo avere le idee chiare quindi anche nella preghiera noi preghiamo il padre possiamo pregare nel nome di Gesù possiamo invocare e pregare anche Gesù non è che non possiamo farlo è chiaro che se ci rivolgiamo a Gesù non dobbiamo dirgli Gesù veniamo a te nel nome di Gesù non ha senso quindi bisogna pregare anche con un senso sappiatelo che quando si prega si prega con delle parole in una certa lingua si deve usare una certa coerenza nel linguaggio cioè non è possiamo fare quello che vogliamo in preghiera è come una poesia è come deve essere tutto in armonia capite quello che facciamo dobbiamo essere coscienti di quello che facciamo convinti e anche tutto in armonia e correttamente chi ci ascolta deve capire cosa stai dicendo e cosa cosa stai facendo altrimenti è una confusione enorme tu vai a Gesù nel nome di Gesù non ha senso si prega il padre nel nome di Gesù noi abbiamo accesso al trono della grazia al trono del padre nel nome di Gesù Cristo per l'opera che Cristo ha compiuto perché Gesù è il mediatore tra Dio e gli uomini ma se ci rivolgiamo a Gesù evitiamo di dire Gesù veniamo a te nel nome di Gesù non ha senso se andiamo a Gesù andiamo nel suo nome non ha senso capite come non è biblico come non è biblico pregare lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo alberga in noi ci guida ci aiuta intercede per noi intercede per i Santi a volte anche direttamente parlando in lingue quando si parla in lingue è lo Spirito Santo che prega semplifico in questa maniera non è questa la sede adatta per fare tutte le casistiche di quello che si dice in lingue ma la cosa principale è che è una preghiera fatta in lingue un'intercessione dello Spirito Santo e non prega di certo se stesso lo Spirito Santo e così neanche noi in lingua comprensibile non ci dobbiamo mettere a pregare lo Spirito Santo tramite lo Spirito Santo che è in noi non ha senso a parte che non è biblico allora le scritture presentano una preghiera a Gesù una invocazione a Gesù una preghiera invocazione a Dio Padre ma non c'è invocazione preghiera e dare gloria e cantare allo Spirito Santo nelle scritture non ci sono queste cose quindi noi ci dobbiamo attenere sempre alla parola noi sappiamo che la parola di Dio è ispirata ci sono le cose che ci sono e ci atteniamo ad esse se ci atteniamo alle scritture noi ci troveremo bene perché così è scritto e così noi crediamo e così parliamo così non rimarremo mai confusi io credo che lo Spirito Santo sia Dio ci mancherebbe ma se la scrittura non c'è nessuno che ha invocato direttamente lo Spirito non c'è nessuno che ha pregato lo Spirito ha cantato allo Spirito ma perché lo devo iniziare a fare io non lo faccio non si offenderà mica il Dio se io prego il Dio e non lo Spirito Santo io credo che semmai si offendono se non prego il Dio si offende se non prego ma non credo che ci sia qualcuno che si offenderà se io prego solo il Padre e non prego lo Spirito Santo anzi io so che lo Spirito Santo mi sta aiutando a pregare come si conviene al Padre quindi io so che è presente lo Spirito Santo quando prego non è che non non mi sta aiutando o che lo sto offendendo quindi non ci dobbiamo rivolgere direttamente allo Spirito Santo ci dobbiamo rivolgere a Dio Padre e al Signore nostro Gesù Cristo queste sono diciamo l'essenza principale dei concetti più importanti principali che si potevano diciamo si potevano si sono si potevano presentare così brevemente perché passi ce ne sono ancora non è che abbiamo finito però questo era uno stimolo per voi per farvi capire la dottrina della Trinità e per farvi comprendere anche che dobbiamo nella nostra mente e nel nostro cuore fare le giuste distinzioni per ottemperare sempre a quello che è scritto nella parola di Dio questo era l'insegnamento che volevo darvi per oggi e a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli Amo